Ciao, benvenuti o bentornati qui sul mio canale. Io sono Sole Leonora e oggi vi guiderò con delle affermazioni per attrarre sicurezza in voi stessi, per manifestare la versione migliore di voi stessi. Iniziamo subito e non dimenticatevi di seguirmi su Instagram dove tutti i giorni vi porto un incredibile valore per aiutarvi a manifestare la versione migliore di voi stessi. Iniziamo subito. Sono sicura di me stessa, felice, sana e piena di potere. Mi merito tutto ciò che voglio dalla vita. Mi amo senza condizioni. Sono competente, intelligente e capace. Sto cambiando e migliorandomi ogni giorno che passa. Io amo la persona che sto diventando. Tutti i giorni divento la versione migliore di me stessa. Oggi è una fantastica giornata per essere vivi. Sono forte e piena di potere. Sono naturalmente sicura di me stessa. Mi merito ciò che desidero e sono incredibilmente saggia. Sono sicurissima delle mie scelte personali. Essere sicura di me stessa mi viene naturalmente. Il mio corpo, la mia mente e il mio spirito sono meravigliosi. Tutti i giorni la mia sicurezza cresce. Sono motivata, ispirata e positiva riguardo alla visione della mia vita. Sono completamente sicura di me stessa e del mio percorso. Sono sicura delle mie capacità e dei regali che l'universo mi ha inzonato. Radio amore e sicurezza in me stessa. Vivo nel presente e mi fido del futuro. Ogni situazione di difficoltà la affronto con sicurezza in me stessa, coraggio e convinzione. sono sicura dei regali così unici e dei talenti che l'universo mi ha donato e li condivido con molto orgoglio con il mondo. sono resiliente, creativa e piena di gratitudine. tutti i miei problemi hanno delle soluzioni e ne sono convinta. Non c'è nessuno migliore di me. io sono la reincarnazione della sicurezza. Tutti i giorni miglioro poco a poco. cose meravigliose mi succedono tutti i giorni. Io sono abbastanza. Io conquisto qualsiasi ostacolo per creare la vita dei miei sogni. tutto sta andando come da piano. Il mio passato non determina il mio futuro. Sono la creatrice della mia realtà e della mia realtà ideale. vedo sempre il meglio negli altri e in me stessa. So di avere l'abilità di raggiungere tutti i sogni e gli obiettivi che mi pongo. Sono sicura dei piani per la mia vita. e di come le cose stiano andando. Mi merito l'amore che mi viene dato. Lascio andare tutti i sentimenti negativi che ho riguardo a me stessa e accetto che va tutto bene. Mi sento gloriosa dinamica e piena di energia. Sono viva e attiva. L'abbondanza scorre attraverso me. Tutte le mie esperienze sono essenziali per la mia crescita e il mio sviluppo. mi merito ciò che desidero perché onoro chi sono tutti i giorni. Sono aperta a nuovi e fantastici cambiamenti. la vita mi sta portando esperienze meravigliose. Nessuno decide come mi sento a parte me stessa. Sono in carica dei miei pensieri e mi giudicherò nella maniera adeguata. Io amo il mio corpo. Io amo la mia vita. Io amo chi sto diventando. io amo dedicare tempo a diventare la versione migliore di me stessa. Io amo investire su me stessa. Io amo essere sicura di me. Io amo mettermi al primo posto. E io amo e sono incredibilmente grata alla vita. Grazie mille per essere stata qui con me. Spero che nella ripetizione di queste affermazioni ogni giorno due volte al giorno per 21 giorni riuscirai davvero a plasmare il tuo subconscio e a pensare queste cose di te e della tua vita. Ti auguro soltanto il meglio e che tutti i tuoi sogni si realizzino molto presto. Da qui è tutto e ti aspetto nel prossimo video. Love Nora e la tua vita e che